Non ne ho vera che fa male, non ne ho vera che fa ingrassare, signorina sentimentale, si le piace da buon figliare. Continua a tenere banco la vicenda della condotta fognaria sottomarina da Cetara a Vietrisulmare. Lo scorso 29 agosto la giunta comunale vietrisi, eretta dal sindaco facente funzione Marcello Civale, su proposta dell'assessore al demanio Giovanni De Simone, ha varato un'apposita delibera nella quale detta l'indirizzo politico ai responsabili dei settori affari legali e dell'area tecnica. Nello specifico viene chiesto di dare continuità ai lavori del tavolo tecnico affinché si possa ricercare la soluzione alternativa più idonea alla realizzazione dell'opera, evitando così l'innesto nell'attuale impianto di sollevamento che, secondo il comune di Vietri, attualmente già presenta delle criticità. Inoltre viene demandata agli uffici competenti la predisposizione di un'apposita convenzione per disciplinare i rapporti successivi all'eventuale collegamento, tutelando lo spazio marino e quello dell'arenile vietrise da eventuali problemi di malfunzionamento o di rottura della condotta. Intanto, dopo la riunione dello scorso 6 agosto presso la vicepresidenza della regione Campania, nel corso della quale i vertici dell'amministrazione vietresi hanno manifestato tutte le preoccupazioni di ordine politico rispetto all'opera in corso di realizzazione, si susseguono le riunioni nelle sedi opportune per cercare una soluzione alternativa.